maniaggio Gomez come si è assaltato Rashford bravo filtrantizzala manchia che filtrante esotico per Giorgio il migliore che filtrante mamma mia best mamma mia quanto godo mi lascia pure spazio guarda qua guarda che scarso 5 a 2 bravo 1 a 1 vabbè non so che dire non so che dire se non ride questa partita vabbè guarda KK che prende il palo da un metro vabbè manuale che poi è tornato bravo KK per scoperto bravo Clarence che yukatora Garrincione al 92esimo godo che vai con la parte principale quelle quelle che fai e c'è la squadra che si rinconisce bravo mamma mia che inserimenti che fa sta guar sei d'oro carincione carincione mamma mia guar corri KK corri ma tranne che sta facendo la VL guarda cosa gli ha parato godo figlio di puttana godo go tranquillo dopo 6 game mi sono già rotto il cazzo bravo best 75 vedi eh beh ho ma è normale è normale è normale che fai te ne aprivi figa c'ho 100k cioè non so che cazzo farci eh io non ho segnato uno cioè raga ma Aubameyang costa 100k bello quindi ho trovato i treni carlos alberto 2 gare su fifa ma fa poco cagare su fifa fra no fa poco cagare game è in proprio marcia quel figo 2 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 9 4 8 9 8 10 10 10 10 10 11 12 9 brava guarda e anche uno, due dato che sto giocando con due portieri difensori perchè sono stupido bello che assurdo il bot che fa possesso carrincia chiamocci la 63 di over kkk 2 a 0 bravo best davanti alla porta ma ti sei messo a reala come no cioè ma solo perchè per l'espira no no ma dico nella tua squadra ma ti serve in forza lui ti serve per linkare il gioco ma che cosa l'ho preso a reala da fuori aria a raso terra centrale a reala tunnel vabbè bello se c'è qualcun altro così genio che 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 va bene Grazie a tutti. 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 Guarda il Piero, bello. Sposta il portiere ma disegna uguale. No, cazzo. Vaffanculo. Caccaa, che bella stazione, godo. Caccaa. Ok, ok. Guarda, guarda, non era manco fallo, guarda, guarda, tiro e caccaa che si sta rialzando e la prende lui. Vabbè, allora. bravo del Piero. caccaa, 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 caccaa. Questa caccaa, 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 caccaa. toto bravo cacca sul primo palo ciao capilla quinta per fare risalto hai nome su un modulo e riserva dopo due michele neanche due michele ucciano dopo due michele ucciano guarda 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 ti è partito dove aveva un asset ahahahahah non puoi toglierlo ahahah mi permetto che chi walker telsino guarda che c'è chiesto guarda 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 Ovviamente al novantesimo Nooo le mie punchline! Ramme nattiche a Milano a cazzo nattiche Sono che sette! Scetete! Ha sti cazzi Un mese e mezzo anche a questo tempo con i livelli di città Mamma! Oggi vinciti i giochi di FIFA e domani ne fai due Siamo proprio delle carte di FIFA Cioè, rispetto alle carte di FIFA siamo veramente più forti noi Quindi non ha senso mettere in giocato dei 50 di Overlord Sono! Oddio è tornato! Sono nego! Prado del Piero! Prado del Piero! Prado del Piero! Chiuma! Bravo Sono! Cacau quante cose! Che gol di merda! Torno! Torno!